Allora, lo scopo di questo libro, il Gran Libro del Mondo, nella filosofia di Tommaso Campanella è una conoscenza approfondita del pensiero filosofico e etologico dell'autore, privilegiando una prospettiva di tipo metafisico, mostrando come la dottrina sull'essere dell'autore impermiata sulla potenza, sapienza e amore come triade, poi per me l'intero corpus dello stilese. Il motivo concettuale che si è scelto di analizzare primariamente è il rapporto tra idea di Dio e idea di natura. Questo perché si è scelto di confutare, da un lato, un'interpretazione panteista, materialista, diciamo così naturalista della filosofia del Campanella, e quindi che sfocia poi in teorie eretiche, eterodosse, e dall'altro invece la tesi di alcuni insigni studiosi, secondo cui il pensiero campanellano si viverebbe in due parti, da un lato l'eterodossia, il materialismo della gioventù, e dall'altro invece in seguito alla conversione la sua ortodossia. Ciocco Mira, il mio testo è invece una ricostruzione unitaria del suo pensiero, mostrando come il Campanella sia sempre stato alieno da tentazioni terodosse e sostanzialmente in linea con la dottrina del Cattolicesimo. La scelta metodologica è stata quella di privilegiare l'attenzione al testo, e quindi mostrando in maniera capillare sia i richiami concettuali tra le varie opere che la loro evoluzione. Questo perché, secondo il mio avviso, un tal genere di studio mancava, essendo finora stato privilegiato un approccio filologico a testi campanelliani fondamentale, però non sufficiente a rendere ragione della grandezza di questo filosofo, che è stato uno degli esponenti più grandi del nostro rinascimento. Questo fine si è ottenuto anche ponendo a confronto Campanella con altri autori della Rinascenza, in particolar modo mi riferisco al Dererum Natura del Telesio, sono stati analizzati in maniera estremamente minuziosa i passi che mostrano una filiazione della filosofia campanelliana da quella di Telesio, ma anche il suo distaccarsi dal Cosentino. E tra l'altro il rapporto con Giordano Bruno, in particolar modo per quei temi riguardanti l'anima del mondo, il pansensismo, per mostrare la diversa prospettiva da cui muovono i due autori e quindi anche la peculiarità dell'indagine campanelliana. Accanto a questi due filosofi comunque si sono prese anche in considerazione le opere di Cusano, di Tellaporta, di Galilei e anche di Pomponazzi, appunto per mostrare le affinità del nostro autore con questi altri esponenti del Rinascimento. Lo studio prende le mosse dall'analisi della filosofia della natura campanelliana e quindi della cosmologia, nelle opere fondamentali dello stilese, ad esempio il Descenso delle Cose della Magia e l'Epilogo Magno, per poi mostrando appunto l'inconsistenza di un campanella panteista e negatore della trascendenza, appunto analizzando l'idea di natura e che il rapporto si leghi con Dio. Tutto questo per sfociare poi nell'analisi dell'antropologia campanelliana, che è un tema estremamente interessante in quanto ci permette poi di analizzare altri settori dell'uscibile indagati dal campanella, mi riferisco in particolar modo almeno a quello che erano scienze dell'epoca, ossia la magia, l'astrologia e la gnosologia campanelliana e quindi anche la visione tricotomica, ossia mente, corpo e spirito tipica in alcuni esponenti del Rinascimento. Tutto ciò culmina poi nello studio della metafisica campanelliana, in cui a mio avviso il percorso che Campanella trova il culmine, il percorso di questo studio, perché la metafisica impermea di sé ogni erabbo dello scibile umano. Accanto a ciò sono stati evidenziati in essi con l'indagine teologica del Campanella. Per quanto riguarda la teologia campanelliana è un'opera di vastissima mole, a mio avviso finora non è adeguatamente scandagliata e quindi si è avuto riguardo per enuclearne quelli che sono i punti nodali fondamentali, avendo però sempre un occhio alla ricerca metafisica. Detto ciò non so che altro dire. Quanto abbiamo raggiunto? Grazie.